Le famiglie italiane in povertà energetica sono 2,2 milioni. L'ufficio studi della CGA ha fornito recentemente un aggiornamento della situazione, elaborando i dati ripresi dal rapporto OIP 2023 ed il quadro che emerge è allarmante. Sono numeri preoccupanti di Chiara Ivana Giocomelli, segretario nazionale di codici, perché sono riferiti al 2021. Si tratta quindi del periodo precedente alla crisi energetica che ha investito l'Italia ad inizio 2022. Sono dati dunque sottostimati perché la situazione è peggiorata. Secondo i dati della CGA, sono 5 milioni le persone che nel 2021 vivevano in abitazioni poco salubri, scarsamente riscaldate durante l'inverno e poco raffrescate d'estate, con livelli di illuminazione scadenti e con un utilizzo molto contenuto dei principali elettrodomestici bianchi, come frigorifero, lavatrice e aspirapolvere. I nuclei familiari più a rischio sono quelli numerosi ed in incondizioni di disagio economico. A livello territoriale, la situazione più critica si verifica in Calabria con il 16,7% di famiglie in condizioni di povertà energetica, seguite da Puglia col 16,4%, Molise 16%, Basilicata 15% e Sicilia 14,6%. Le regioni invece meno interessate da questo fenomeno sono la Lombardia col 5,3%, la Liguria col 4,8% e le Marche col 4,6%. Il dato medio nazionale è dell'8,5% ed è in crescita dello 0,5% rispetto al 2020. Rispetto al periodo pre-pandemia, quello oggetto dalle analisi della CGA, osserva Giacomelli, il costo di gas ed energia elettrica oggi è più che raddoppiato. Da diversi mesi, fortunatamente, le bollette sono in calo, ma lo shock energetico ha lasciato segni profondissimi. Un quadro allarmante perché povertà energetica significa famiglie in difficoltà economica.